Io dico che in un paese normale, quando ci sono dal 1 gennaio 2013 ad oggi più di 80.000 sbarchi di immigrati clandestini e quando, come è stato annunciato oggi, potrebbero essere oltre 800.000 gli immigrati clandestini che potrebbero arrivare sul nostro territorio, in un paese normale il Ministro dell'Interno, che oggi è stato addirittura sfiduciato da un alto funzionario del Ministero stesso che ha affermato che con l'operazione Mare Nostrum le partenze sono aumentate, in un paese normale il Ministro dell'Interno oggi rassegnerebbe le dimissioni. Quindi ci attendiamo immediatamente ad ore che il Ministro Alfano, che è il responsabile unico ed esclusivo di questa invasione di immigrati clandestini, rassegni le sue dimissioni. La dimostrazione di quanto la Lega sostiene da sempre, ovvero che nel nostro paese c'è un serissimo pericolo invasione. 800.000 persone pronte a partire per sbarcare nel nostro paese vuol dire una situazione assolutamente insostenibile e di allarme generale. Dobbiamo assolutamente bloccare gli sbarchi e rimettere in campo quella politica che Maroni, con successo, era riuscita a portare avanti impedendo a queste persone di partire. Sono dei clandestini e rimangono dei clandestini. Quest'anno costeranno, se i dati verranno confermati, alle tasche dei nostri cittadini 10 miliardi di euro. Quei soldi invece devono essere investiti per aiutare le nostre famiglie, per aiutare chi non trova lavoro e non invece per favorire l'immigrazione clandestina. Li commentiamo dicendo praticamente che il Ministero ci dà ragione. Dice che l'operazione Mare Nostrum è un'operazione scellerata. È un'operazione che invita i clandestini ad arrivare in Italia, tant'è che gli sbarchi sono aumentati. Esattamente come dice il Ministero. Abbiamo visto invece i dati della Spagna che gli sbarchi in Spagna sono diminuiti. Un motivo c'è, il motivo è perché la Spagna fa i rispengimenti, invece l'Italia va a prendere queste persone. Il Ministero dell'Interno smentisce il Ministro dell'Interno e il Presidente del Consiglio. È bene che il Governo si chiarisca su questo, ma noi ci aspettiamo che il Ministro Alfano si dimetta. Datti che fanno ben capire la gravità del problema, cui la Lega da anni sta denunciando e abbiamo visto la situazione e abbiamo visto anche il Ministro dell'Interno Alfano che ha criticato fortemente la Lega e violentemente in aula le scorse settimane. Noi riprendiamo il tema, dicendo e denunciando il grande problema sull'immigrazione, in cui sarà un problema sociale sui nostri territori che si ribalterà sui comuni. Commento che sono completamente allo sbando, sono in balia dei flussi migratori e al contrario di come sta facendo per esempio la Spagna che ha preso esempio da quello che il Ministro Maroni attuò ormai tre anni fa con i rispingimenti in mare, la Spagna è riuscita a diminuire, a passare da oltre 35.000 clandestini a meno di 3.000. e noi tutti quelli che non andranno là sappiamo benissimo che verranno di qua. Ma probabilmente abbiamo ancora numeri per difetto, Alfano aveva preannunciato circa 600.000, oggi sembra che siano più di 800.000, probabilmente si parlerà di qualche milione di persone disposte a spostarsi. Noi avevamo fatto con i governi precedenti, dove partecipavamo, degli buoni accordi con Tunisia, con Libia eccetera, dove sostanzialmente abbiamo messo a disposizione anche navi, patugliamento, abbiamo addestrato anche la polizia libica, per far sì che venissero fermati e valutata la possibilità o meno di essere considerati rifugiati o comunque aventi diritto di asilo. Il Viminale si sta riducendo a fare l'agenzia stampa degli scafisti e dei clandestini essenzialmente, perché dopo aver innescato politiche che dicono e fanno credere e capire a tutti quelli che stanno dall'altra parte del Mediterraneo, che in questo paese si può arrivare senza che ci sia alcun vincolo, alcun limite, è chiaro che diventa tutto più facile per chi vuole trasportare e fare commercio di esseri umani da una parte all'altra del Mediterraneo. Noi abbiamo chiaro invece una cosa, a questo c'è un limite se il governo frena questa invasione. Non verrà certo dall'Unione Europea la soluzione, ma deve venire da una determinata azione di politica italiana. Chi deve immigrare lo deve fare solo per questioni strette e legate ad asilo politico.